Cos'è la parola AMEN? AMEN, AMEN, come lo diciamo noi all'ebraica. Da dove viene questa parola? Questa parola è una parola brevissima. In ebraico è costituita da sole tre lettere. È una parola molto molto potente. È una parola internazionale. È una parola che viene usata uguale in tutte le lingue del mondo. Forse è l'unica. Non ha un'accezione in nessuna lingua diversa da quella che noi diamo in ebraico. La lingua da cui origina questa parola. Forse l'accento cambia, ma niente di più. Quando è che compare questa parola AMEN per la prima volta nella storia dell'umanità? Compare nella Bibbia in una vicenda un po' strana. Siamo nel libro dei numeri e un marito che sospetta che la moglie l'abbia tradito porta la moglie davanti al sacerdote nel santuario. E il sacerdote inizia a recitare una formula. E questa formula racconta alla donna quello che di brutto le succederà se veramente ha tradito il marito e le cose belle che succederanno se invece non l'ha tradito. E la donna alle parole del sacerdote risponde AMEN 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 due volte. Che cos'è questo AMEN 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 due volte? Quello che noi sappiamo è che questa parola AMEN viene dall'acronimo di tre lettere, tre parole, che si chiamano KEL, MELECH, NEEMAN, DIO, RE, FEDELE. Le prime tre lettere di queste parole, la ALEF, la MEM e la NUN, formano la parola AMEN. E la radice della parola AMEN viene dalla parola EMUNA, FEDE. Quindi quando noi pronunciamo la parola AMEN stiamo dicendo che abbiamo fede in quel cosa. Stiamo dicendo due cose che dicono i rabbini contemporaneamente. Da un lato diciamo AMEN, è vero. AMEN vuol dire è vero. E' come quando si dice una cosa, ci credi o non ci credi? Sì, sì, ci credo, è vero. AMEN, è vero. Credo fermamente in quello che è stato detto. Ma la seconda cosa è dire AMEN. Così sia, che sia veri. Per favore, spero che diventi realtà. E queste sono le due accezioni a cui noi facciamo riferimento ogni volta che diciamo la parola AMEN. Sapete che in ebraico c'è la Gematria, la somma del valore numerico di ogni singola lettera che forma una parola. La somma della Gematria, delle lettere Aleph, Mem e Nun, che compongono la parola AMEN, è 91. 91 è la somma anche però di due nomi di Dio. Un nome di Dio, che è il tetragramma, la cui somma è 26. E un altro nome di Dio, che noi pronunciamo Amonai, che è il nome di Dio che noi diciamo oggi, al giorno d'oggi, perché non possiamo pronunciare il nome di tetragramma, quando recitiamo le preghiere. Ma cosa rappresentano questi due nomi? Sappiamo che Dio ha tantissimi nomi e ogni nome rappresenta come si manifesta Dio in terra. Allora il tetragramma rappresenta la rivelazione di Dio nei mondi superiori. Siamo nei mondi spirituali e lì è in alto, pronto per rivelarsi in terra. Amonai, il secondo nome, rappresenta Dio quando è già rivelato in questo mondo. Allora AMEN, che è la somma di questi due nomi, rappresenta che cosa? È la parola che congiunge i due mondi. È la parola che congiunge lo spirituale, i cieli superiori, con il materiale, con la nostra terra, con il nostro mondo. Congiunge il mondo del non rivelato, del nascosto, del potenziale. È il mondo materiale, in atto, la manifestazione concreta di qualcosa. AMEN, noi lo rispondiamo in genere. Quando qualcuno recita una benedizione, qualcuno sta facendo una benedizione e noi rispondiamo AMEN. È vero, hai ragione. Noi diciamo, benedito tu sia re del mondo che sei, che hai generato ogni cosa con la tua parola, e chi ascolta questa benedizione dice AMEN. Proprio vero, Dio ha creato così il mondo con la parola. E dire AMEN significa dare la forza concreta alla benedizione, che si trova latente nei mondi spirituali, di diventare realtà, di trasformarsi in qualcosa di vero. Nella Kabbalah, le tre lettere della parola AMEN, Aleph, Mem e Nun, sono spiegate in questo modo. Aleph è la stessa lettera con cui inizia la parola OR, luce. E sappiamo che la luce primordiale è Dio. Mem rappresenta il qualcosa che fa passare. Ma'avir, ma'avir, Mem, con la stessa lettera, la M. E vuol dire far passare qualcosa dai mondi superiori ai mondi inferiori. E la Nun, questa lettera è una lettera molto lunga, è come un lungo bastone, e rappresenta proprio il congiungimento dall'alto al basso, e quindi è qualcosa che porta da su, verso giù. Ecco, quando noi preghiamo, ci leviamo verso i mondi superiori. Quindi noi, esseri materiali, vivici, cerchiamo di diventare un pochino più spirituali. E riusciamo a congiungere la spiritualità con la materialità. Non solo, ma noi spesso preghiamo per cose materiali. Chiediamo la salute, chiediamo di avere un sostentamento decoroso, chiediamo di avere abbastanza per noi stessi e poter dare anche agli altri. Chiediamo anche tante cose materiali, ma sempre in una luce spirituale, si spera. Ecco, quando noi chiediamo queste cose materiali, ma le chiediamo con la preghiera, quindi cerchiamo di congiungerci a Dio, noi riusciamo a congiungere insieme questi due mondi. E dicendo Amen, gli mettiamo la colla. Amen è la colla che congiunge queste due dimensioni che sono completamente diverse. Non solo. Quando noi stiamo pregando, noi ci eleviamo alla spiritualità. Speriamo che la spiritualità scenda nella materialità. Ma quando noi diciamo Amen, queste due cose diventano una sola cosa. Qualcosa che anche nelle nostre preghiere, finché non diciamo Amen, non può avvenire. Quindi, che cos'è questa parola così potente? E perché la facciamo comparire, perché la vediamo comparire quando la donna è sospettata di tradimento? Sapete, nella Kabbalah, nella mistica ebraica, la donna rappresenta l'umanità e il marito rappresenta invece Dio. Ecco, Dio, allora, quando sospetta che l'umanità lo stia tradendo, che non stia più seguendo i suoi valori, i suoi principi, che si stia allontanando dalla sua strada, prende l'umanità e dice, vedi un attimo qua, per favore, dobbiamo fare due chiacchiere. Tu lo sai che brutte cose ti succedono quando ti allontani dai miei valori morali, quando inizi a uccidere, a rubare, a non professare la giustizia vera, a non rispettare i genitori, a credere in altre divinità e poteri che non siano il potere di Dio, ma si attribui del potere al denaro. E già c'è qualche problema di fede. Quando inizi a desiderare tutte le cose che hanno gli altri, non ti accontenti di quello che possiedi tu, tu lo sai, succedono dei disastri. Questo è quello che dice Dio. E noi diciamo, Amen, è vero Dio, lo sappiamo, è la prima accezione. Però poi Dio va avanti e dice, però, se tu torni indietro e provi a ricongiungerti a me, e provi a ritrovare la mia strada, sai quante cose belle che succedono? Riporti l'umanità in equilibrio, riporti la luce a risplendere, farai ritrovare all'essere umano il vero scopo per cui io l'ho creato. E noi diciamo di nuovo, Amen, nella seconda accezione, così sia Dio che tutte le benedizioni che ci dai diventino realtà. C'è scritto che gli angeli sono molto, molto gelosi di un essere umano che pronuncia la parola Amen, perché questo Amen ha il potere incredibile di trasformare tutte le nostre preghiere in renta.